Vediamo come inviare un messaggio e-mail. Posso utilizzare il tasto pianifica invio e-mail oppure la voce di menu messaggi e-mail invia. In corrispondenza del messaggio che voglio inviare mi posiziono sul tasto azioni. Invia test, invia singoli sono funzionalità che mi permettono di fare dei controlli preliminari degli invi di test del messaggio. Scegli destinatari invece la funzionalità per inviare il messaggio ai destinatari finali. Prima dell'invio è buona prassi cliccare sulla funzione controlla dove posso trovare la funzionalità dello spam check. Mi vado a segnare un punteggio al mio messaggio. Più è alto questo punteggio, più sono alte le possibilità che il messaggio venga recapitato nella casella posti indesiderata. Diciamo che una buona soglia da non superare mai potrebbe essere il 2,5. Quindi in questo caso posso comunque inviare il messaggio con relativa tranquillità. Dicevo, scegli destinatari e la voce per l'invio. Mi vengono dati i recap del nome emittente, l'indirizzo emittente, il reply to che ho impostato, ovviamente posso modificarlo. E infine vado a scegliere i destinatari. Posso inviare a tutta la lista, quindi a tutti gli iscritti, oppure solamente agli iscritti presenti in uno o più gruppi. I gruppi possono anche essere usati per esclusione. Selezionati i destinatari, posso flegare elimina le statistiche prima dell'invio per andare a pulire le statistiche generate dai test preliminari e infine cliccare su salva e continua. In questa schermata mi viene detto quanto ci metterà la console a consegnare il messaggio ai miei destinatari e infine ho le due strade di invio. Ho un invio immediato o un invio programmato. Iniziamo dall'invio immediato. Clicco inizia invio e il messaggio verrà recapitato ai miei destinatari. Il messaggio è ora in corso. Potrò vedere la percentuale del recapito dalla schermata stato invio. L'invio programmato invece mi consente di schedulare una data ed un'ora nel futuro al quale voglio che il messaggio parta. Clicco su pianifica e vado a impostare le mie data e ora nel futuro. Posso anche selezionare il fuso radio di riferimento. Scelta la programmazione clicco su imposta. In automatico questo orologio mi ricorda che a questa data e a questa ora è già programmato un invio. Posso quindi uscire dalla console di mail app, spegnere il pc, l'invio partirà in automatico alla data e ora stabiliti. Scelta la programmazione clicco su imposta.